il museo archeologico si trova nel centro storico di Frosinone nell'area occupata dall'antica acropoli aperto al pubblico nel 1994 il museo raccoglie reperti datati a partire dal paleolismo inferiore ovvero circa 250.000 anni fa di particolare rilievo una testa femminile in terracotta della fine del sesto secolo avanti cristo e i corredi funerari attribuibili al popolo dei volsci una delle più importanti popolazioni insediatesi nel lazio meridionale nel 2021 è stata inaugurata una sezione presso il nuovo palazzo comunale l'ex banca d'italia allestita nei suggestivi sotterranei con i potenti e impenetrabili forzieri già destinati alle riserve nazionali in valuta e oro detta cavù la sezione è dedicata alle testimonianze della fase romana e alla collezione numismatica vittorio palermo esposta in un innovativo e interattivo monetiere di ultima generazione